E' un momento, facciamola di vero, viene dalla chiesa e saprà plegare una grande. Certo, sì, è un'ottima idea. Dio, tu sei molto piccolo. A quanto pare abbiamo un esperto della Bibbia. Sei fico? Perché anche se noi ti vediamo in modi diversi, tu ci vedi tutti alla stessa maniera. Aiutaci ad essere così, aiutaci a non cercare le differenze, ma a trovare le somiglianze. Porta la pace nelle nostre vite, nel nostro paese e nel mondo. Amo. Sei stato davvero in chiesa? Buongiorno. Buongiorno. Buono? Sì. Ma io non sono sola, mi sono sposata da Papa. Sì, mio marito si sta occupando degli affari. Ben dì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.